Cibi di strada ogni ben di Dio. Assolutamente, al prato ci sarà veramente di che leccarsi baffi con cono di pesce fritto, piada romagnola, la svizzerina di chianina, un medaglione di chianina in pane toscano, altro che hamburger, e tutto il cibo di strada siciliano, pane cameusa, pane panelle, arancini, cannoli e anche ospiti stranieri come la paella, l'asado di angus e di altre carni, ci sarà anche il lampredotto, ci saranno tanti cibi veramente ottimi come anche uno toscano che non è facile trovare negli eventi enogastronomici che è il panigaccio di Podenzana, un prodotto della panificazione con salumi e formaggi. Street food cibi di strada da gustare perché c'è veramente tanta qualità. Sì, questo è il messaggio più importante perché è il cibo di strada che viene valutato in questa manifestazione, ma non solo, è un modo per far conoscere la città in un posto tra i più belli che è il Parco delle Rimembranze del Prato e da qui partiranno per chi vuole, per chi vuole ampliare non solo il gusto del cibo ma anche il gusto della conoscenza, visite guidate per la città che servono proprio a dare l'immagine di quello che noi siamo e di quello che vogliamo per tutti quelli che partecipano e che vogliono venire ad Arezzo stare bene.